La situazione è già fantastica per l'ora, insomma io sono arrivato qui prima delle tre, insomma è attorno alle 14 e già c'era tantissima gente, purtroppo la pioggia ma sembra che la giornata stia migliorando. Per quello che riguarda Radio Rock saremo in diretta con un intervento ogni ora dalle 15 e 20 fino a stanotte, insomma fino a tarda sera, a commentare insieme ai nostri ascoltatori quello che accade sul palco del primo maggio e quest'anno si prospetta una situazione davvero incredibile. Troviamo un po' qui a lavorare tutti insieme ma ci sottili da quello giusto, quello del primo maggio di Piazza San Giovanni. È un incentivo per continuare a rimanere qui con noi. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie, buon lavoro anche a voi.